Dove nascono le prime città? Le prime città nascono in prossimità di questi grandi fiumi in cui l'uomo inizia per la prima volta a coltivare la terra. In Mesopotamia, nella terra fra i due fiumi, nascono le prime città, Ur e Uruk, i primi insediamenti umani che possono essere chiamati città. Grazie. 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 Grazie.